Vediamo invece se il bene è suscettibile di trasformazione, in tal caso non utilizziamo il valore di mercato ma utilizziamo il valore di trasformazione che è il più probabile valore attribuibile a un bene in vista della sua trasformazione, ovvero se l'immobile è un vecchio fabbricato rurale, noi lo possiamo trasformare in villetta, noi calcoliamo il valore della villetta come se fosse già finita, diciamo, meno tutti i costi necessari per realizzare appunto la trasformazione da fabbricato rurale in villetta, quindi tutti i costi della trasformazione. Ovviamente come valore di mercato, noi utilizziamo il valore di mercato della villetta finita, a questo vanno tolti tutti i costi di ristrutturazione, costruzione e manutenzione per realizzare appunto la villetta che noi in condizioni di ordinarietà venderemo. Come si opera? Quindi la prima cosa si determina il valore venale dell'immobile in condizioni, poi vanno calcolati i costi di costruzione e o ristrutturazione e o manutenzione, infine il valore di trasformazione è data la differenza tra il valore dell'immobile in condizioni ordinarie di manutenzione e di ristrutturazione, meno tutti i costi di costruzione e o ristrutturazione e o manutenzione. A questo punto vediamo l'applicativo Excel che io vi propongo per la determinazione del valore venale. Allora per esempio la prima tabella è una tabella dati in cui noi mettiamo tutti i nostri dati, quindi vedete fabbrica abitazione, titolarità, quota, ubicazione, foglio, particella, sono tutti ovviamente dati inventati, consistenza, ubicazione, piano, quindi proprio tutti i dati consistenza ovviamente o in vani o in metri quadri, terni qui inserite la prima tutti i dati. La seconda, diciamo, secondo foglio dell'applicativo mi mette le categorie catastali, ve le ho inserite tutte così voi avete, diciamo, tutto quello che è la categoria di ciascun immobile e anche le caratteristiche dell'immobile stesso. A questo punto, allora, se si tratta di fabbricati noi andiamo sui valori OMI. Allora, per esempio, voi andate sull'agenzia dell'entrata oppure se utilizzate l'applicativo FormApps o Stimatrix e avrete, per esempio, per la zona vi uscirà, ecco qua, vedete, abitazioni civile vi esce di valore minimo 1.150 euro al metro quadro, valore massimo 1.650, box 7.30, 9.80, ville e villine 1.200, 1.700. Vi sono anche i valori di locazione, ma in questa fase non vi servono. Vedete che vi porta anche l'anno, il semestre e la zona. Questo per un comune, questo per l'altro comune. Per il terrore venale dell'immobile, vedete questa tabella vi riporta gli stessi dati che abbiamo segnato nella tabella dei dati, ve li riporta di fronte al fatto che l'immobile è suscettibile di trasformazione. Allora, prendiamo il caso del primo fabbricato, no? Questa è la superficie commerciale stimata, perché qui, se vi ricordate bene, avevamo i vani catastrali, li abbiamo trasformati in superficie commerciale. Questo vi conviene farlo per tutti, così anche se uno ha balconi sotto tetto, voi direttamente mettete la superficie commerciale. Qui abbiamo il valore, vedete, in termini di condizioni ordinarie di manutenza. Vediamo, per esempio, l'ultimo. Quindi, ordinariamente, chiaramente questa tabella tiene conto se eventualmente l'immobile deve essere, diciamo, demolito e realizzato ex novo. Allora, ma sono dei dati che non necessariamente dobbiamo inserire, no? Però vi inserisce nella tabella che potreste utilizzarla. Questi sono i costi di demolizione, eventualmente. E quindi abbiamo il costo di costruzione. Questo invece, nel caso di una ristrutturazione, sono tre tipi di ristrutturazione, diciamo, leggera, media, pesante. L'ultimo dato è quello pesante. Poi abbiamo anche la manutenzione, perché può darsi anche che ci troviamo in condizioni immobili che non debbano essere né, diciamo, demoliti e costruiti ex novo, né ristrutturati, ma soltanto manutentati. E abbiamo, vedete, le tre percentuali di manutenzione, se si tratta di manutenzione leggera, media o pesante. E quindi qui abbiamo il costo medio di manutenzione, no? Allora, per esempio, prendiamo l'ultimo. Nell'ultimo caso, per esempio, abbiamo che nel caso, per esempio, di questo manufatto era completamente da abbattere, noi dovevamo chiaramente, di fronte a un valore di 1.220 euro spuntabile in condizioni ordinarie degli immobili, dovevamo spendere 951 euro a metro quadro, ovviamente per l'abbattimento e nuova costruzione. Il valore di trasformazione sarebbe stato di 269 euro a metro quadro, moltiplicato i metri quadri e abbiamo il valore di trasformazione del nostro immobile.